Le feste patronali in Puglia sono una cosa seria, l'abbiamo scritto anche nella rivista che abbiamo confezionato in occasione della 184esima edizione della festa patronale organizzata in onore di Maria Santissima di Sipondo. È un anno particolare, veniamo già da una serie di limitazioni che hanno cambiato il nostro modo di vivere, una pandemia che ha coinvolto tutto il mondo e che ci vede costretti a rivedere proprio il nostro modo di vivere con una serie di limiti che sicuramente ricadranno anche sulla organizzazione di questa festa patronale. Non ci saranno le bancarelle, le consuete bancarelle, Luna Park, purtroppo lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che ci vedeva tutti con naso all'insù per ammirare i colori e il suono di questo spettacolo. Ma probabilmente questa è un'ottima occasione per ritrovare noi stessi, per ritrovare quel momento di fede, di preghiera. Certamente non ci saranno tantissimi momenti di svago, ma credo sia un'opportunità, un'opportunità per i sipontini di raccogliersi in se stessi e di trovare forse le energie giuste per dare un contributo alla nostra città. Una città che sta vivendo certamente un momento difficile. Cosa si auspica alla Proloco in particolare di Manfredonia per il prossimo avvenire? La Proloco continua a lavorare in silenzio, così come si fa quando si vuole lavorare bene, senza tanti proclami. La Proloco ha nel suo DNA quello di abbellire la città, di renderla più accogliente, più fruibile sotto tutti i punti di vista. E si auspica che la cittadinanza, affardata proprio a iniziare proprio dalla prossima festa patronale, possa avere un atteggiamento sicuramente più maturo e vivere proprio la prossima festa patronale con un'attenzione maggiore verso il prossimo. Questo è soltanto il primo seme da mettere perché la città ha bisogno nel prossimo futuro di avere una crescita molto più forte sicuramente sotto il punto di vista anche culturale e di diventare sempre più una città attrattiva. Questi che stiamo vivendo sono i giorni clou di questo 2020 della festa patronale di Maria Santissima di Siponto. Quindi già la Proloco guarda avanti, guarda oltre e dà il segno, dà il senso, il significato giusto anche per vivere una prossima festa patronale. Certo, non possiamo fermarci, assolutamente. Per noi sarebbe difficile poi ripartire. Dovremmo continuare tutti insieme a trovare le energie migliori per questa città per far sì che possiamo intanto trovare le idee giuste e poi metterle in pratica. Manfredonia ha bisogno di crescere, ha subito inevitabilmente uno stop in questi mesi, ma la città merita certamente di andare avanti e di andare avanti con tutta l'energia positiva che possiede. Le bellezze ci sono, tanti auguri alla Proloco e grazie alla Proloco di Manfredonia. Grazie anche a voi per la splendida opportunità che date non soltanto a noi come città, gli attestati e i messaggi che ci arrivano dai nostri concittadini che purtroppo non sono potuti venire qui giù a Manfredonia questa volta per festeggiare. Anche questo è un limite dovuto al Covid per festeggiare degnamente la nostra patrona. I nostri concittadini ci ringraziano per la possibilità che voi a questo punto fornite per partecipare comunque in maniera attiva a questa festa patronale. Anche da lontano. Anche da lontano. Grazie. Grazie.